Tempo di bilanci per l'Associazione di Promozione Sociale Anteas di Gubbio Gualdotadino. Malgrado l'emergenza epidemiologica, è proseguita l'attività di accompagnamento di persone bisognose di assistenza. I servizi effettuati a partire dalle segnalazioni delle assistenti sociali dei comuni del Gubbino Gualdese e USL Umbria 1 hanno riguardato l'accompagnamento per visite mediche ed invalidità civile, per terapie, riabilitazioni, per convivialità e spesa. Oltre 5.000 i chilometri percorsi nel solo 2020 e se numerose sono state le richieste di trasporto a cui l'Associazione ha risposto, svariate sono state invece le occasioni in cui, a causa del contagio, Anteas non è potuta intervenire, per quanto riguarda ad esempio gite, convegni, visite a persone sole. In generale l'attività è proseguita intensamente anche attraverso il progetto Chiesa Prossima, insieme alla Diocesi Ugubina, alla Caritas e ad altre associazioni, e all'iniziativa Socializzazione Telefonica, attraverso la quale l'Associazione è potuta restare in contatto con i soci non e rispondere alle varie necessità. E proprio in tema di necessità, Anteas ha distribuito durante il periodo natalizio oltre 50 ceste alimentari alle famiglie in difficoltà del territorio. L'Associazione nel rendiconto dell'attività per l'anno 2020 ha tenuto a ringraziare tutti i volontari, in particolare gli autisti, i soci e quanti hanno reso possibile le varie operazioni sociali. Ci è mancato lo stare insieme, le chiacchierate, le riunioni, i convegni, le passeggiate, i pranzi e le cene. Saremo comunque pronti a ricominciare appena possibile.